Alessandro, è stata una gara dalle mille emozioni, lo possiamo dire? Sì, è una partita incredibile, l'ho detto ai tuoi colleghi, è una di quelle giornate che ti ricorderai per il resto della vita e la racconterò ai figli, ai nipoti sicuramente perché è una giornata pazzesca, pazzesca per come ci siamo sentiti sul 2-0 e per come ci siamo sentiti qualche minuto dopo, quindi il calcio è straordinario per questo, noi ci prendiamo questi tre punti, ci prendiamo questa gioia immensa, sappiamo però che domani è già lunedì e sabato arriva una corazzata alla Recchi, quindi dobbiamo cercare con tutte le forze di azzerare e prendere soltanto la parte positiva di una vittoria, di questa vittoria e cercare di trasformarla per sabato. Ecco, hai detto sappiamo come ci siamo sentiti sul 2-0, come vi siete sentiti? Cosa vi siete detti? Perché la Salernitana non è nuova, sesta rimonta, questa volta ha portato a termine addirittura il lavoro portando a casa i tre punti? Sì, non so come spiegare, insomma, io credo che il primo tempo non sia stato un brutto primo tempo, noi venivamo su un campo difficile, terreno particolare tra l'altro a cui loro sono più abituati, però non abbiamo subito grosse occasioni, a parte un colpo di testa il primo tempo di Castaldo, c'è stato questo blackout su due palle inattive, ci hanno sorpreso il secondo tempo, sono cose che dobbiamo cercare di essere più attenti, soprattutto all'inizio della ripresa, perché rovini buone partite, oggi siamo stati strepitosi a riprenderla, però veramente rovini buone partite, stavamo facendo una buonissima partita e quando hanno segnato il 2-0 ho detto, cavolo, può passare una partita disastrosa, invece non stavamo facendo male, siamo stati bravissimi a riprenderla. Ti do l'auricolare per una domanda da studio, prego Sonia. Complimenti anche a te, bella prestazione, belle le tue parole, sul 2-0 lo hai detto, eravate un po' affranti, un risultato che pesava, quanto è servita la freschezza, parlo di freschezza mentale dei giocatori che sono subentrati per darvi una mano a reagire? Sicuramente loro sono entrati benissimo, parlo da Rosina, Ricci, Riccardo, sono entrati con una verve come se stessimo 0-0, quindi incitando gli altri, perché comunque il 2-0 è stata una battosta più che l'1-0, quindi devo fare i complimenti, devo fare i complimenti veramente ai ragazzi perché sono entrati con quella mentalità di un grande gruppo, il grande gruppo si costruisce su questo, che quelli che entrano hanno voglia e hanno determinazione per fare bene e trascinano gli altri, oggi ci hanno trascinato soprattutto loro tre. Ciao Bernardini, complimenti anche da parte mia. Sul 2-0, ovviamente quello che si può dire in televisione, cosa vi ha detto il mister, cosa vi diceva quando avete preso il secondo gol, il gol di Laverone, per incitarvi, cosa vi ha detto? Ma io sinceramente c'era talmente tanto caos in campo che la panchina l'ho sentita poco, dico la verità, però immagino come si sia potuto sentire lui, credo si sia sentito come noi, che stavamo rovinando una prestazione che tutto sommato stavamo facendo, e questa era la cosa più brutta perché un conto si avevi subito per tutti i minuti precedenti, ma noi avevamo subito pochissimo e abbiamo preso due gol su due palle inattive, assolutamente evitabili, quindi questo credo che sia la parte negativa di oggi da migliorare sicuramente. Però oggi, ripeto, l'ho detto ai colleghi, le altre volte avevo criticato il fatto che andavamo sempre in svantaggio, oggi veramente voglio elogiare il fatto che abbiamo rimontato qualcosa di incredibile.